Non scottarsi al sole ragazzi Fa male alla pelle E' importante guardate Effettivamente ci dicono dalla chat che essendo che non farmi Potresti andare anche di Night Harvester Però Come ti trovi meglio Eh si però il Ludens mi da pure il mana Eh ma tanto non farmando non è che ne usi Così tanto se ci pensi Eh beh ho messo il mana Flowband dai Night Harvester si Ci sta e vado Darkseal Ovviamente Così andiamo Dopi me già è che live educativa Non è più il Chuck di una volta li hai delusi tutti Comunque con questa runa Allora adesso vi faccio vedere quanto è troppo Quanto slow Con la giusta build full AP Ma perché loro non hanno capito Che questa runa mi fa sloware in base all'AP E quanto Scala l'AP E' il 10% dell'ial e degli scudi No aspetta 10% li ha degli scudi E ma quanto di AP Dell'ial e degli scudi E siccome lo scudo mi va in scaling AP No ma c'è anche proprio lo scaling AP vedo Se vado Se premo tab e vado sul Glacial C'è proprio anche uno scaling AP Sì c'è tutto C'è tutto C'è tutto Scala sull'AP Sugli scudi e sulla E dico E sulla AP quanto ha di scaling lo sai Non me lo ricordo Dopo ci guardiamo Dopo ci guardiamo Senza ci mettiamo tipo davanti come all'altro Non dobbiamo neanche pullare Quindi quando tu attivi lo scudo slowa di più Esatto Se lo attivi Ok Esatto Non so se strattare Dio Non ho più l'audio in gioco Che cazzo è successo? Questa è una domanda da un milione di euro C'ha Non ho idea Fino alla partita di prima c'era l'audio Oh perché mi pinga che ha messo la ward Vabbè Niente Ahia Ci rivediamo a livello 3 signor Rick Ah la comet Oh guarda cosa ha preso per counterarti Sono curioso di sapere come lo userà Cosa i flans? Sì Ok Questa 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 Non ci arrivo Bella madonna Sì sì clanza subito Ma Vabbè questo è il dislivello ragazzi Chiaramente dislivello Oh Ok Ha funzionato Uno per uno Alla al centro Arrivo Ok ti aspetto Aspettami Qua forse devo farmare fino Devo stare più safe Aspettare il 6 Una volta fatto il 6 Il 3 Il 3 dici? Il 3 Tutti i personaggi che sono non comuni A livello 3 sono più forti Di gli addicari in bordo Ok Stiamo così Champion non comuni Beh che nel senso che non è un addicare No si si ho capito In quel senso No si si ho capito Parla di un minfrizz un attimo Quanto ti mancati al 3? Mezzo livello ancora Ok Ottimo Oh ma guarda questo Tanto gli fa 0 senza le stack Eh però Fastidioso il tizio È un messaggio che ti sta lanciando Non ho paura di te Rico Sì faremo paura Eh quasi Sono al 3 Alla Swin non penso che lo uccidiamo Lui si però Vado Non ho il fuoco però Va bene Non ci serve il fuoco direi Warning 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 Buffete Va bene Non dark harvest Onestone No no Lucky No vabbè FF Eh Preso Fuoco Fuoco Eh Oh merda Ho scippato Aiuto Aiuto Buia Warning 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 No Vabbè Allora Night Harvester Che fatica Che fatica ragazzi Ma faccio anche io Night Harvester Oddio Quale faccio Questi due buchi Warning 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 Inizio un po' brutto di questa botlin Però ci siamo aggiustati Abbiamo aggiustato il tiro Abbiamo aggiustato il tiro Mastery ha rovinato tutto Guarda anche la wave Come è messa male Maledetto Mastery Ma sta e faccio La wave sta là per mezz'ora Cioè Flash su sui Entra poco E arrivo al carretto Ok Eh Meno push Ah c'è una pink pure qua Ah quanti razzetti si sta beccando quello Ne prova piacere a quanto pare Ah ma si chiama È Amadeus Grande Ama Ok Ok Grabo Oh Oh Eh vabbè Non è possibile Dai Eh Allora stiamo citando la botta Eh ma allora Ma questi qua Myron dove? Mi chiedo io Myron dove? Che volete fare dai varvi? Sì Io no Cosa potrebbe mai andare storto? Oh Mastery è scomparso Stavo armando tipo la giungla di Khin Prendo io il carretto Ok Ok Piatelo 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 Eh ma c'è una moda Oddio Comorò quanta gente Mastery mi sa che è ancora qua dentro È là No è qua Eccolo Ok Ok Easy Minchia Shutdown Il mio sacrificio vi aiuterà a ucciderlo Ti ha shottato praticamente Eh non c'avevo vita Che zera Non c'avevo vita È che c'avevo La stack di Dark Harvest No che mi eccitava parecchio Quindi Non potevo non andare a prenderlo Dodge Quasi c'ha qua L'ha tirata storta Da colui Non l'ha tirata in predict Allora Questo è quello che pensi tu Chuck Questo è quello che pensi tu È un po' aver predictato ad Iron Ad aver forse Ha tirato a storta Lui ha predictato il tuo predict Del suo predict Capito? Ma io ho dato per scontato Che non avrebbe predictato E Iron Chuck ha dato il tuo per scontato Però Non c'è di questo Oh c'abbiamo la ulti Si vola Si gode Grazie Nick Barloz Grazie al sub Bello Grazie mille Tu Quanto ti manca la ulti? Un terzo di livello Ok Due minion Tic Carico Oh Mid lane Ah sti cazzi È innocuo È innocuo Warning 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 Oh Ma cazzo mio Avanzate Che cosa state facendo? Vitrial dalla torre Tuck Ok Sono pronto Chuck Guardo Quando vuoi tu Fuoco Fuoco Mamma mia Quanto l'abbiamo bruciato a questo Quanto l'abbiamo bruciato a questo Mamma mia Tic Stronzo Coglione Seguendo all'ex Flash Mino un po' indietro Così quello viene avanti Sei fuori al cespuglio Chuck Ah Ops Ops Ma come No non può essere guardato Perché Mino non sono venuto addosso Vabbè Quasi Back C'ho il Night Harvester E li meniamo Ok Preso E Eh Me già è qua Deve un po' aspettare Perché Inizio un po' Turbolento Ma ci sta Ci sta Top pure Vedo che non se la cava Benissimo Ho quel masterista Sittando un po' tutti È ovunque Abbastanza Chuck quanto mi manca nei Tarvester Poco 800 gold Ok Allora io ho la ultima Te ce l'hai tra 13 secondi Ok Ma Ok Ci hanno ultato Sono Erano arrabbiati A quanto pare Sium Fuoco e fiamme Oh mio Dio La combo È forte Porca teressa È forte Fuoco e fiamme Ragazzi Arrivo Arrivo Che in Trebbe esserci Masterilli Mi sa O viene da me A rompermi le palle Ma non credo Stai maxando la Q Chuck Sì È 4 Ok Ok Meno male E abbiamo Il Knight Tarvester Io sono nato Di Mejai Cosa ne pensi Io dopo lo faccio Faccio Demonic Embrace Mejai Come Mejai Demonic Embrace Giusto Va bene Senti Dio A leggere Ste persone In chat Vabbè Ok Ah Chuck Quando vuoi C'ho la combo Io la ulti Che secondi ha la ulti Perché aspetto la ulti O vado senza Secondo che puoi andare senza Se ti va più piacere aspettare la ulti Puoi aspettare la ulti Beh con la ulti Ci abbiamo tipo La bruciatura eterna Tic 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 E allora Ulti sì Va letalite il ragazzo Vai Secondo me tu Letteralmente possiamo Che lo ultiamo Eh sotto torre Tipo se lo ulti E tu lo ulti Dobbiamo provare Secondo me Secondo me sì C'è qualcuno che arriva Mi sa Ci pingano Stavo per fare flash Q Puoi metterti nel cespuglio O il primo che raggiungi Letteralmente Muore Varus di più Quello comunque Non sbaglia un colpo Tizia Non c'è chi Sium Guarda che bello Che sta sulla mia ulti Bravissimo Oh Devo Mastery Eh sì 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 Mastery Vieni pure Oddio A me un po' paura Mi fa di danno quel coso Ok ci provo Ecco qua Fustionato Si è scottato Andiamo back Faccio le scarpe Magic pen Dobbiamo bucare di botte E ci facciamo anche questo Vai No la contro L'ho sbagliato Ogni tanto capita Anche a me purtroppo Di tanto Di tanto anche io Purtroppo ci scappa al dito Capito Allora Chuck Quando sei in range di qualcuno Clicchi R Va bene C'ho anche l'ex Slash mo Oh questa secondo me in me Ci viene qua davanti Eccoli Oddio vogliono veramente andare al drago Let's go A questa me lo serve Guarda Valus Sì Vai Guarda quello Eh non ci arrivo Peccato Vai tendo il tuo ex Flash La mia ulti è in canna Fitta che ti pare Se c'è qualcuno Forse Mastery qua dentro Oh 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 C'è Mastery che mi sta inseguendo Un attimo Io ho Ho shotto un attimo Arrivo Ok Ecco qua Prego Mi entro a breve Oh Mastery Ha provato ad attaccarmi E' stato shottato Fitta regrettata la sua decisione Sì Penso proprio di sì Penso proprio di sì Che palle stai torri Mamma mia Comunque sto Valus Non sta missando una Q È incredibile Anche su Veigar Sa il fatto suo Ragazzo Ok Allora Horizon non ce l'ho ancora 1v1 Versus Seraphim Let's go Porca Minchia tanca La signorina Torna qua Eh perché c'è un sacco di vita 3-2 Oh Non morire Oh shit Che palle È che è morto È morto Veigar Ha preso il Triumph Quello Peccato Peccato Per l'ultimate Hunter Qui c'è un Renekton Aspetta Poi l'ho realizzato Sì È 4-1 Oltretutto È 4-1 Oltretutto Prima l'ho visto A un certo punto Poi è scappato Eccolo lì Renekton Nekton Forse è qua Da qualche parte È un po' il ragazzo Oh guarda chi c'è Guarda che pizze Ho tirato a quello Eh sì L'ha sentito Cazzo Renekton è in top lane Presto L'ado bruciare Arrivo Vado Arrivo Cazzo Ma se ci giriamo su questa le spalle Eh ma io La taglia Mi serve Per l'ultimate Hunter Arrivo Cazzo No Brucialo Brucialo No Ha flashato Uno Non ci arrivo cazzo Slow uomolo Slow uomolo Slow uomolo Da visione Ma ci facciano le scarpette Con questo No Non è anche voluto Provato a combattere Ok Non credo Non è vero No vabbè Però sai Cioè Era comunque 5-1 La botter Che basta Però Ma aspettavo un po' di più Ma aspettavo un po' di più Sai Renekton in genere combatte Oh ma che due coglioni Ste torri Vado Viene Renekton combatte È un po' più combattivo Morning Morning Non ci sono più i Renekton No infatti Ci sono più i Dei Dara Il controller's claw E l'ex flash Renekton Ieri sera con Jacopo Abbiamo fatto il Il Renekton Del one shot In cui ammazzavo le persone Con una singola W potenziata Lui giocava a Nasus Con le maxate Toglieva l'armor E ho fatto una build Con più penetrazione possibile E c'era un Abbiamo fatto i calcoli C'era un Mordekaiser Con 240 di armor Abbiamo fatto tutti i calcoli Perché ho tirato una W singola Mordekaiser Con 240 di armor Full build E l'ho shottato Tu non ci crederai Ma l'ho shottato Con una W potenziata Ho tolto tipo 60% di vita Abbiamo fatto i calcoli Dopo il game Per capire Quanta armatura avesse Effettivamente Dopo la mitigazione Del letality Percentuale eccetera Aveva 10 di armor Gli abbiamo tolto 230 di armor Perché avevamo 45% 45% Da Lady Nasus 30% Dal Lord Dominic E 83 di letality Cosa ne pensi? Gravatina come cosa È stato molto molto bello Quel one shot Questo gira tutto largo Oh Trovate un'altra C'è sera fino dietro È pronto? Sì Ecco qua Bruciati Ma È sparito Quanto lontano è andato C'è un Redekton selvatico Kill him I'm coming to flank Quasi Ma quella ritorna Senza pubblicità È abbastanza Devo dire Ho la ultimate A 13 secondi Io un po' più tardi Ah C'ho 45 secondi Cooldown Uh Oh yes Il fuoco Eh Venite a prendere Il mio fuoco Fuoco Niente Ho detto fuoco Ho dimenticato che non c'era di minion Stavo guardando te Fuoco Oddio Sì Perfetto Ok Baby E la clip Sarebbe a trovare Grazie No Stefan Hope Grazie mille Carola del sub Bentornato Grazie Se qualcuno c'è delle clip Della live di Serena di Renekton È veramente spettacolare Poi ovviamente C'è Mordekaiser Così Però tipo C'era Senna Miss Fortune Letteralmente Bastava sole Scusamente La mia W Cioè Non serviva Neanche Non serviva Altro Non serviva La Lady Nasus Nient'altro Poi c'era Senna W potenziata Morta Scomparsa È stato molto particolare Sono andato ovviamente Di Max W Ah minchia È vero Il bonk Di Mordekaiser Su Vex Ho fatto Mordekaiser Full AP Con Night Harvester Scarpe Magic Pen Rabbadone Così È riuscito Sì una singola Q È riuscito a shottare Come una singola Q È stato Bonk Sparita Ulti Q Morta Tu qua c'è una bella Ulti Da tirare Questi stanno Tirando Gli skill shot Da un chilometro È effettivamente Rompo un po' le palle Ok ci sono Rivengono avanti Ok vado Quasi Non vado più E ok Ok mi ha fatto Il roller È bene Renetton Ah ma Renetton C'ha un sacco di Magic Resist Guarda qua che roba C'ha solo I cosi in realtà L'ex drinker È le scarpe Non è poco eh Quanto ha di Beh neanche troppissimo Eh considera poi la sua ulti Ma come posso fare Che tipo il champion Di danno a fine Fa pochissimo Che altro non potrei fare Potresti farti Una zona post engage Se faccio quello che toglie La Magic Resist Come si chiama Aspetta La Biss al mask Sì Dio puoi farla Non è proprio un oggetto AP Però ci sta Toglia Magic Resist Beh tanto più che altro Così aumenta La sinergia Sì Abbiamo tanto danno magico Noin Minchia guarda la build di Swain Io ti dico solo Che sto maxando A colpiamo seconda Per il dilaccio all'augment Guarda la build di Swain Force of nature First item Wait aspetta È vero Minchia è andato Full magic Sì Assurdo Ok C'è il rabado Ma qua è stato Startato un Baron Baron Sì Abbastanza incontestato Anche direi Ok Io sono pronto Con la ult Sono un po' Ho troppo lontano Arrivo Arrivo Noo Ecco portato Sulla ult Tutto calcolato Tutto calcolato Perfetti C'ho 2000 gold Andiamo a prendere questo Sì sì Io ho il push mid Dai get soul Sì Dovrei andare anche a shoppare Qualcosina qui Ora vado di void staff Varus vi sta ghostando Dite Uppermost 75 Namadeus I nomi ci sono I nomi sono Ufficialmente I classici nomi D'italiano Sì No ma perché Sai Chuck La mia teoria Che tutti gli italiani Mettono due numeri Alla fine del nome Infatti Tu ti chiami Mr. Chuck 12 Gli italiani Mettono sempre O meglio Non è che gli italiani Mettono sempre Due numeri Alla fine del nome Ma tutti quelli Mettono due numeri Alla fine del nome Sono italiani Lo sapevi questo? Non lo so A me sembra più Tipo una cosa Da vecchi Di anni 90 Sì Italiani però Quasi 669 di AP Oh c'è un blue buff Ti serve? Non credo In realtà Ma stanno È partito Un giga fight Ah io Sono in over it Sono in over it Circa Va bene Ho fatto il muro Run No È arrivato Il giga town Di Shen Regan Sta farmando Nel chilling Nel chilling Ok Venga Stiff farming Nel chilling Ok Vabbè 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 Eh ma sta pushando Lui sta Chuck Lui sta sfruttando Il bar Vedi noi l'abbiamo perso Quindi intanto Lo so Però Occhio che lo perdi Anche te adesso Però nel chilling Lo so Guarda adesso Si gira Clicca R Guarda QR No Premi QR Oppure Non fa assolutamente Oppure Non fa assolutamente Niente Non c'ha mana Mamma via Ok È una delle cose peggiori Che abbiamo Oh Shen Era una gomba Vedi Oh Shen È il salvatore del bar No Shen Shen Vabbè c'è la mastery Dai poverino No 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 Scappa Scappa Parla indietro adesso E combatti Ma il bar È finito Che cacciara Fatto Sì Puoi spegnerli Un po' Ma rispungerà un po' Vabbè Noi rubiamo tutte Tutto nostro Red buff della D-Carry Sapevo io Vabbè tu sei la D-Carry Sì 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 Sono io Torna Aguadino Sì Solo che Però è che loro sanno Dove siamo Chuck effettivamente Dici Nah Secondo me no Non lo so Ah fuoco Fuoco Potere del fuoco Cazzo Vi do fuoco a tutti Fuoco 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 Ottimo Oh Naudilus Innaudilus Oh porca Oh porca Fuoco Fuoco Hanno sorrendato Erano italiani Veramente Sera Ecco E niente Flamesme Flamesme Ciao È spagnolo Flamesme Ah sì Oh Dio santo Seraflamesme Seraflamesme Ah forse sì Interendeva che Seraflamesme Ah Seraflamesme Ok Ah Flamesme È che l'ha scritto in un modo molto particolare Flamesme Seraflamesme Seraflamesme Anche se è stato un po' È stato un po' Dileiato L'invito Ah sì 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 Vabbè Dovete sapere che Chuck Era tutto il weekend Che provavamo Che volevamo fare Questa serata insieme Però Ha avuto un po' di sfortuna Dietro l'altra Ecco In primis Vabbè E In secundis E La team Che non andava Eh vabbè È successo a molti però Quello Grazie Grazie ancora Mell'invito A te Un bacio a tutta la chat Ciao Chuck Buona serata Ciao 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 Beh ragazzi Grazie a tutti